Si dirà dalla nebbia attorno al Corecom, ma si prospetta un alto prezzo politico da pagare per la maggioranza guidata dal governatore Michele Emiliano. Ieri il Consiglio regionale ha approvato la legge che modifica il numero dei componenti dell'organo deputato al controllo sul sistema delle comunicazioni regionale, portandolo da 3 a 5, mettendo così una pezza a colori sul pasticcio che aveva bloccato per settimane i lavori dell'Assemblea. La vicenda è nota. Nella seduta del 4 ottobre il Consiglio era venuto meno al patto tra maggioranza ed opposizione, che prevedeva l'elezione di due membri del Corecom indicati dal centro-sinistra e di un terzo componente individuato dal centro-destra. Dalla votazione finale era invece emerso un risultato diverso, con i tre nomi più votati dall'Assemblea, tutti provenienti dal centro-sinistra. Emiliano definì vergognoso l'atteggiamento del Consiglio e congelò la votazione sino a nuova ricomposizione degli equilibri, che potrebbe essere arrivata ieri con la norma approvata con 36 voti favorevoli, che porta i componenti del Corecom nuovamente a 5, così come era in passato. Ieri il Consiglio ha preso atto dell'elezione dei tre membri indicati dalla maggioranza, Blasi, Saracino e Cirillo, e rimandato ad una seduta successiva il completamento del Comitato per le Comunicazioni con i due componenti espressione del centro-destra, che dovrebbero essere Franco Di Chio per Forza Italia ed Elena Pinto per Direzione Italia. Equilibri ritrovati quindi, ma non nella maggioranza, che forse perde definitivamente Mino Borracino di sinistra italiana, che ieri ha abbandonato l'aula fortemente contrariato dalla soluzione trovata da Emiliano sul caso Corecom. Il governatore pugliese deve fare i conti con una fronda interna che dura ormai da mesi anche da parte dei Firenziani e di articolo 1. Ieri il numero legale è stato mantenuto dai consiglieri di Direzione Italia, altrimenti il Consiglio si sarebbe sciolto anzitempo, esattamente come è accaduto nelle ultime sedute. Intanto il Movimento 5 Stelle annuncia di stare raccogliendo le firme per una mozione di sfiducia nei confronti di Emiliano.